Giorgia Meloni aveva promesso di sostenere la famiglia tradizionale perché lei è Giorgia, è donna ed è madre. È chapeau, è stata di parola, solo che purtroppo solo con la sua di famiglia che proprio tradizionale non è, visto che Giorgia ha fatto una figlia con un compagno che non ha mai sposato e meno male che non l'ha sposato perché poi l'ha cacciato fuori di casa per i fuorionda. Leo Longanesi diceva che nel centro della bandiera tricolore bisognerebbe iscrivere il vero motto nazionale tengo famiglia, ecco più che sostenere la famiglia Giorgia Meloni tiene famiglia, dicono che lo fa perché non si fida dei suoi fedelissimi e fa benissimo visti i fedelissimi che si è scelta però si fida soltanto dei suoi parenti e fa malissimo visto i parenti che si ritrova diretti e acquisiti. Giorgia ha una sorella Arianna che rischiava di essere penalizzata per il cognome che porta, sapete i guai che può subire la sorella del presidente del consiglio in un paese meritocratico come l'Italia quindi cosa ha fatto? L'ha nominata subito coordinatrice della segreteria di Fratelli d'Italia in pratica padrona del partito cosa che Arianna Meloni faceva già prima peraltro solo che quando Natangelo la disegnava nelle vignette lei querelava e lei e Giorgia strillavano dicendo ma ve la prendete con una privata cittadina adesso che hanno ufficializzato il suo ruolo in Fratelli d'Italia dicono bella forza, l'aveva sempre fatto. Arianna Meloni ha un marito, Francesco Lollobrigida, detto Gino anche lui rischiava grosso perché è imparentato con la Meloni i parenti della Meloni sapete che in Italia se la passano male quindi cosa hanno fatto? L'hanno messo ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e dobbiamo ringraziarli per quella nomina perché Lollobrigida regala continuamente perle di saggezza, di valore inestimabile per esempio i giovani che prendono il reddito di cittadinanza invece di stare sul divano vadano nei campi o in alternativa sposino la sorella della Premier e diventino ministri anche loro oppure la sostituzione etnica un giorno ha tirato fuori sui migranti la sostituzione etnica Lollobrigida facendo felice il Ku Klux Klan poi ha capito di averla fatta grossa e ha sfoderato un alibi di ferro ha dichiarato alla stampa io non sono razzista, sono ignorante che è una bella soddisfazione, potrebbe essere anche il motto dell'intero governo altra perla, i poveri mangiano meglio dei ricchi infatti alla Caritas non si trova un posto nemmeno a pagare ma Lollo una ne fa e cento ne pensa pare che sia stato proprio lui a segnalare al nuovo presidente della regione Lazio, Francesco Rocca un amico come portavoce Marcello De Angelis che è un ex militante del gruppo neofascista terza posizione ma anche cantautore in una band fascio rock e giornalista che era stato il fidanzatino di Giorgia da giovanissima il cognato della Meloni che segnala il cognato mancato De Angelis ha tre fratelli uno è morto in carcere, l'altro fa l'autore tv ed è stato anche lui fidanzato di Giorgia Meloni e poi c'è una sorella germana De Angelis che ha sposato Luigi Ciavardini chi è Luigi Ciavardini? è un terrorista dei NAR condannato per la strage di Bologna insieme a Mambro e a Fioravanti quindi i due ex di Giorgia cognati mancati di Lollo Brigida sono cognati di uno stragista e quest'estate Marcello De Angelis da portavoce del Lazio ha fatto un tweet per difendere il cognato stragista dicendo che non è stato lui non è stata nemmeno la Mambro e nemmeno Fioravanti a compiere la strage di Bologna ne ho all'assoluta certezza disse polemiche a non finire poi lui però ha tenuto duro ha detto io sono pronto a pagare come Giordano Bruno cioè addirittura a farsi bruciare vivo poi però per salvare la poltrona si è scusato e ha detto che la sua unica certezza era il dubbio cioè la famosa assoluta certezza era un'assoluta incertezza tutto per salvare la poltrona ma non gli è bastato perché l'hanno cacciato prima di andarsene però il quasi cognato della Meloni segnalato dal cognato della Meloni e finito nei guai per avere difeso suo cognato terrorista è riuscito ad assumere nello staff comunicazione del Lazio chi? suo cognato un altro cognato Edoardo Di Rocco fratello della sua compagna un caso di cognatismo all'ennesima potenza come diceva Ennio Flaiano questo popolo di santi di poeti di navigatori di nipoti e di cognati e Leonardo Sciascia avvertiva tre C sono pericolose cugini cognati e compari infatti non c'è scandalo in Italia senza cognati quello di Craxi Pillitteri faceva il sindaco di Milano e poi è stato condannato per tangenti quello di Fini Giancarlo Tugliani gli fece avere dei guai per la famosa casetta di Monte Carlo quello di Fontana Andrea Dini forniva i camici ai tempi del Covid alla regione guidata dal marito di sua sorella quello di Renzi Andrea Conticini è imputato con i suoi due fratelli per una brutta storia di soldi portati via all'Unicef anche se adesso il PM ha chiesto la soluzione quello di Galliani che faceva il magazziniere al Milan fu arrestato per aver rubato delle magliette e poi fu assolto il cognato di Lotito Marco Mezzaroma già marito di Maria Carfagna e il nuovo presidente di Sport e Salute con cui il presidente della Lazio Lotito ha un sacco di debiti il cognato di Bertolaso Francesco Piermarini venne fuori dall'inchiesta sulla protezione civile che faceva incetta di appalti e in quell'inchiesta fu intercettato un imprenditore Diego Anemone che parlava con il provveditore alle opere pubbliche Angelo Balducci di due cognati il cognato di Bertolaso Piermarini appunto e il cognato di Rutelli Paolo Palombelli fratello di Barbara e si domandava oddio quanti ce ne sono di cognati ora tutti i cognati che ha la famiglia Meloni rendono inspiegabile un fatto perché il partito si chiama fratelli d'Italia e non cognati d'Italia o sorelle d'Italia compagni 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 d'Italia non si può perché compagni fa tanto comunista no? eppure per un anno Giorgia Meloni ha avuto il suo compagno senza offesa Andrea Giambruno conduttore di un talk politico su Rete 4 diario del giorno i giornali lo chiamavano il first gentleman poi abbiamo visto quant'era first e quant'era gentleman ogni volta che apriva bocca sparava una gaffe sembrava praticamente il capo dell'opposizione in clandestinità ha fatto più danni lui a Giorgia di tutto il centro-sinistra messo insieme naturalmente Giambruno doveva occuparsi ogni volta del governo presieduto dalla sua compagna e come se ne occupava parlandone bene ovviamente se ne parlava male quella lo inseguiva col mattarello gli cambiava le chiavi di casa e lo mandava pure in onda con un occhio nero o meglio parlava bene di Giorgia in onda perché nei fuori onda faceva il marpione con le colleghe una volta insultava il ministro del turismo tedesco un'altra volta negava i cambiamenti climatici un'altra ancora dettava il tutorial alle ragazze che vogliono evitare gli stupri se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di ubriacarti e perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi infatti le ragazze sobrie non le violenta nessuno gli stupratori notoriamente preferiscono quelle che alzano il gomito forse per l'alito non si sa il dramma è che poi questo lattering lover si è fatto beccare da striscia alla notizia a parlare dei rapporti a tre dei rapporti a quattro con le colleghe di blu e storil e a tastarsi e trastullarsi il pacco che era uno dei suoi passatempi preferiti così il lupo l'ha trovato lui anzi la lupa perché lei l'ha messo alla porta che fosse ubriaco anche lui a saperlo sta di fatto che ha perso sia Giorgia sia Diario del Giorno a furia di fuori onda è finito fuori onda lui e purtroppo ce l'hanno portato via e vabbè è andata così però ci resta l'olobrigida che nessuno lo sospettava ma dei due era il parente furbo dicevamo che i Melones non sono una famiglia tradizionale però sono una famiglia molto allargata non bastava lei a Palazzo Chigi il compagno a Rete 4 la sorella Fratelli d'Italia il cognato all'agricoltura c'è pure la segretaria di Lollobrigida sta nella fondazione di AN con Arianna Meloni e poi c'è l'ex portavoce di Giorgia Nicola Procaccini ex sindaco di Terracina adesso eurodeputato di Fratelli d'Italia Procaccini ha anche una madre vogliamo lasciarla senza un posto no, tra l'altro questa poveretta Maria Burani Procaccini stava già in alleanza nazionale la Meloni l'ha promossa responsabile della consulta per il dialogo interreligioso qualunque cosa significhi Giorgia ha anche una migliore amica che si chiama Milca Dinunzio volevamo lasciarla col culetto scoperto ma assolutamente no consulente gratuita al ministero dello sport ma i parenti sono come le ciliegie uno tira l'altro Giorgia Meloni aveva un portavoce il giornalista Mario Secchi che però combinava un guaio dietro l'altro era un incrocio fra Trafazzi e Fantozzi e infatti lei l'ha avviato l'ha fatto sistemare dalla famiglia Angelucci a direttore di Libero e ci ha messo al posto chi? Gian Battista Fazzolari Fazzolari lei stessa lo ha definito la persona più intelligente che io abbia mai conosciuto quindi figuratevi le altre questo Fazzolari fa anche il sottosegretario all'attuazione del programma ma visto che questi il programma non lo attuano anzi lo tradiscono ha molto tempo libero naturalmente come sottosegretario e quindi fa anche il portavoce Fazzolari però ha un lontano pugino calabrese che fa il medico chirurgo e stava per andare in pensione si chiama Rocco Bellantone l'hanno subito promosso capo dell'istituto superiore di sanità al posto di Brusaferro mai più senza un altro fedelissimo di Giorgio Edmondo Cirielli detto ex perché nel 2005 Berlusconi aveva preso una sua legge che voleva aggravare le pene per i recidivi e ci aveva infilato dentro una normetta che dimezzava i termini di prescrizione per i suoi processi Cirielli si era vergognato e aveva detto non chiamate la legge con il mio nome infatti fu chiamata ex Cirielli alla memoria adesso Cirielli detto ex è niente meno che vice ministro degli esteri e ha una fidanzata Maria Rosaria Campitiello che fa il medico ed è di Salerno poteva restare senza poltrone assolutamente no è il nuovo capo della segreteria tecnica del ministro della salute Orazio Schillaci ma Cirielli ha subito giurato è stata nominata per il suo curriculum anzi il fatto che fosse la sua fidanzata ha rischiato di danneggiarla come per Arianna Lollobrigida e tutti gli altri parenti che fanno una vitaccia tremenda dimentico qualcuno no non manca non manca più nessuno mancano solo i due Leocor e infatti speriamo che non si liberino degli altri posti perché la famiglia allargata dei Melons è finita è tutta piazzata a parte la madre che è troppo grande e la figlia che è troppo piccola a meno di andare a pescare gli zii o i cugini oppure i figli e le figlie di Sgarbi Sperminator che li ha disseminati in giro per l'Italia a decine e si è portato avanti e infatti ha già infilato nel suo staff al ministero della cultura la figlia della sua colfa della sua domestica poi adesso se non lo cacciano proseguirà come diceva il professor Sassaroli al Melandri in Amici Miei è tutta una catena di affetti che ne io ne lei architetto possiamo spezzare Marco Travaglio e guardate chi c'è collegato prosegue l'applauso Vittorio Feltri ciao Vittorio a tutti voi allora allora ora c'è la pubblicità però dovete rimanere lì e ve lo ricordo tutte le settimane non toccate il telecomando se non cambiate canale ci aiutate molto dopo la pubblicità c'è Vittorio Feltri c'è Carlo Verdone c'è Andrea Scanzi ma dove andate? state lì state lì grazie a tutti Autore dei sorrisi